Che siete voi, è la vostra storia e tutto ciò che vi possa fare in strada non cancellare. E' la prossima volta che... Ma noi li dobbiamo parlare con lui, ma io ti dico... Ma noi li dobbiamo fare solo il sugo stasera. Avevamo fare solo il sugo e lui va bene. Io sempre molto dico... Sugo! Chi c'è tra gli ospiti che conosco? Chi c'è tra gli ospiti che conosco? Cioè... E' una bandiera. Adesso lo faccio parlare. Poi ho detto sempre... Guarda, non avevo capito che fosse così convinto dell'operazione. Ma forse perché vengo da un paese piccolo, da un paese dove... Quindi ti è piaciuta la vicenda qua? E' straordinario. E' straordinario. Ma guarda, io sono invidioso. Ho fatto bene a scelgere Sutri. E' straordinario aver scelto Sutri. Non voglio dire Sutri perché non la conosco, ma... Lì, alla ricorda, ero con Marco. Cioè, guarda... Guarda Vittoria. Vittoria è... E' come un cane da tartufo che... Guarda... Stava camminando per la... Per la necropoli. E l'attenzione con cui guardava, velocemente, mi crea... Era come una radiografia. E il dato resta, gli resta. E io mi sono sentito... Io ho sentito... Cioè, ho detto... Ho capito. Poi tu l'hai detto... No, l'hai detto perché gli hai detto... Ho scelto. Non ne ho bisogno. E questo lo sapevamo. Ho scelto. Ma perché una persona di cultura così grande... Sceglie. Sceglie perché vuole dare. E quando uno dà... Scusa Vittorio. Dà... Dà perché ama... E si incazza pure. Perché se si incazza... Dà... Ma... Mi hai fatto venire voglia. Perché è un po' distante. Però mi hai fatto venire voglia. Te lo giuro. Ma dai... Se vuoi li affittiamo noi la casa... Che ha... Nobili... E pitture veneziane. Chiamiamo. Non ci manca. Mi piaceva il golf. Poi è vero... E' vero anche quello che dicevi tu... Che poi non è facile stare a fianco. Per cui... Immagino che sia... Comunque... Per me. Avete un fallo. Seguitelo. Ma ti è sembrato... La presentazione è sembrata una fine che fosse equilibrata. Anche se io vi interrompevo... La lettura di quella... Ma l'interrompere... E' un problema momentaneo... Loro o nostro. Di chi... Di chi è l'interrotto. E' stato spunto. E' come l'allenatore del pugile. Che ti dice fermo. E ti ferma prima che ti mettano K.O. Ti ha salvato la vita. Ecco. E nel complesso la serata è sembrata positiva. Io sono stato... Ispirato e... E' proprio straordinario. Un modello che se se ne potessi moltiplicare 100 in Italia sarebbe straordinario. Vabbè... Da lì c'erano 120 persone. Tu sei diventato... E da ora... Deve intelligenza. Aveva una cosa era. Nel cuore della notte. Io dico che comunque il microfono o non funzionava bene...